salve a tutti ragazzi belle brutti e mi iscrivetevi in un video di contornati sul video di HdSpo io sono Dibispo come state vedendo oggi non mi vedete in facecam perchè? perchè ho notato che Roaxel quando ha fatto il pack opening l'ha fatto senza facecam e gli sono usciti giocatori Tots, If, e chi più ne va allora ho deciso di provare a vedere se anche come questa cosa funziona vi ricordo che se volete partecipare ad altri Pinkslips vedete mi piace la pagina facebook trovate il link qui sotto in descrizione in modo tale che possiate partecipare questa è la squadra dei Pinkslips andrò a mettere in palio Raffa in Tots, l'ho fatto una sferta di scambio l'ho pagato circa 25-27 mila crediti, il suo prezzo dovrebbe essere aiutato a 30k, non voglio esagerare quindi le regole erano semplici di condividere eccetera eccetera però non tanto che le condivisioni su facebook non tanto risultano perchè c'è chi ha la privacy e quindi non io non posso vedere se ha condiviso questa persona mi riesce svuotando il numero e quindi dal prossimo post metterò che la condivisione sarà facoltativa e quindi se volete condividete metterò solo che il commento dovrà essere completo il nome del PSN, la data e il numero il numero dell'estrazione e quindi ora andiamo ad invitare il nostro avversario ci sono state parecchie polemiche ma spero che si risolva tutto nel migliore dei modi gioco ancora amici invitiamolo eccolo qui l'ho invitato spero che arrivi subito siamo ritornati qui perchè il mio avversario quello che aveva vinto l'estrazione non ha PS3 a PS4 io avevo detto che era solo per PS3 ma ha commentato aveva PS4 infatti mi risulta che a PS4 ha un dispositivo diverso da PS3 quindi non posso giocare contro di lui avevo scritto nel post che era solo PS3 ma perchè dovete leggere delle cose dai non pensavo mi dispiace quindi ora il primo che avevo estratto mi ha mandato la foto della condivisione che risale al giorno stesso dove ho messo il post e il mio facebook non mi ha fatto vedere la condivisione di questa persona e quindi ora andrò a sfidare questo mio avversario e quindi ora andremo ad invitare il nostro avversario finalmente possiamo giocare sperando che non succeda qualche altro problema e vabbè andiamo a scommetterci questo Raffael Talks dai per i 500 iscritti stiamo arrivando anche a Brila a 600 iscritti sono davvero contentissimo dovremmo essere arrivati a 600 563 e circa vabbè ecco la squadra del nostro avversario bene qui ci sta mettiamo maglietta blu andiamo dai sono carichissimo oggi mi sento carico non come gli altri giochi mi sembri più una merda vabbè ho già visto la sua scuola una difesa davvero che emette paura e speriamo che ci vada bene però non voglio guparmi e quindi mi sto zitto vai goz vai goz 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 attenzione a Ronaldinho vai mamma mia che culo che ho avuto questo attraverso come cazzo ha fatto maledizione grande come cazzo ha fatto a prenderla di testa no no vaffanculo difesa mi siete aperti come una cosa ma dai ma perchè 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 dico io perchè perchè vai royce corri royce corri royce corri royce corri royce corri royce corri royce che cazzo di cazzo cazzo di merda di cross cazzo di merda di cross cazzo di merda di cross dai primo tempo 1 a 1 equilibrato ci sta l'equilibrio ci sta l'1 a 1 abbiamo equilibrato molto più possesso più precisione avversaria ma diciamo sono arrivato veramente poco al tiro vediamo come va a finire con questo secondo tempo royce a cercare il bambino di testa uuuuuh la palla fuori di un no niente mannacchia vai robert vai robert il tiro di robert 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 cinquantottesimo dai cazzo robert tu sei il mito mito tu sei il numero 1 archiel robert con lui con cui conquistate il titolo della divisione 1 grandissimo archiel robert si fa sentire ancora una volta robert cercare la testa di hummels avvameyang il tiro di avvameyang la parata del difensore kundogan il tiro di kundogan kundogan il tiro di kundogan kundogan noia davvero forte attenzione al tiro di ramirez noia ancora mamma mia noia grandissimo noia mamma mia quanto cazzo è forte vi consiglio noia a leno un cesso leno grande noia di nuovo noia cazzo mamma mia noia meno male che c'è noia ancora corner vai hummels non ti fai superare grandissimo no e e ma perchè spazzate così male spazzino malissimo va bene va bene va bene no 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 grande noia no cazzo di merda di passaggio bambina la difesa troppo sguarnita ramirez esi noia mamma mia palo 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 cazzo palo meno male che ramirez non è quel gran che è nel tirare schweinsteiger eh fallo fallo su schweinsteiger 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 mi si è intorcigliata la lingua qua una bella punizione una bella punizione da cui ci sta tutta non so che tirare con roberno o royce molto indeciso mmm beh vai con royce dai con royce vai royce vai royce vai royce mamma mia parata di check bellissima questa parata di check bellissima anche la punizione lì marco royce la voglio rivedere schiedo scusa se ne faccio rivedere però era bella questa punizione peccato peccato alaba allarga di nuovo per roben che ci arriva hummels da lì hummels cazzo cazzo hummels ma la maldizione finisce qui dunque sì sì primo pink slips vinto sì e finalmente dopo due sconfitte il primo pink slips vinto secondo me grazie anche a noi 8,5 davvero forte però non è stato il numero di capo è stato chi è stato è stato il combo grazie a tutta la squadra vi ringrazio per aver visto questo video rafael rimane nel mio team ebbene ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate un bello pollice in su pagina felice iscrivetevi al canale se siete iscritti qui è giovispo vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo domani con un nuovo video rimanezze sull'organizzazione sulla pagina facebook per altri pink slips ciao e bella a tutti e al prossimo video